Recensione Trading 212 2023 Come diventare ricchi con gli ETF e azioni Ciao ragazzi, benvenuti a tutti all'interno di questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove andremo a parlare appunto di Trading 212 Una piattaforma che amo veramente tanto Perché possiamo andare a investire in azioni e ETF Però per prima cosa vi invito come sempre a iscrivervi al canale E di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere Vi invito anche e soprattutto a iscrivervi all'interno del gruppo Telegram Ufficiale Top Coin Italia Perché questa applicazione, questa piattaforma già l'ho portata a tempo fa Ovviamente c'è anche un bonus interessante che possiamo andare a guadagnare Che è di 100€, ok? Ovviamente nel gruppo Telegram ho lasciato tutte le info, ok? In questo caso che cosa bisogna fare? Cliccare sul link, questo qua, ok? Compilare il forum iniziale con i dati richiesti Qualsiasi documento va bene Se è richiesto inserire il codice promo Questo qua, così possiamo andare a ricevere l'azione gratuita Selezionare Trading 212 Invest Poi depositare 10€ E in questo caso andiamo a ricevere un'azione di massimo 100€ E come potete ben vedere Ecco qui quello che ho ricevuto Quindi ovviamente funziona Prova di pagamento Eccola qua Quindi va benissimo Vi lascio il link sotto in descrizione Sia di Trading 212 Sia del gruppo Telegram Perché trovate altre promozioni simili Si presenta così Trading 212 La prima schermata Ok la home Ovviamente vediamo le varie robe Come ad esempio la watch list Io ce l'ho su Tesla Apple, Amazon, Meta e Netflix Poi ovviamente qui possiamo cliccare Popolare E possiamo andare a vedere quelle migliori Ok Poi titoli azionari americani Quindi possiamo andare a vedere Nike McDonald Coca Cola Walt Disney Poi quelli titoli azionari inglesi Barclays BP E via dicendo Tesco anche Poi ci sono anche le nuove novità Ok su Trading 212 In questo caso vediamo Porsche Nvidia E via dicendo Gli ETF Che questi sono importanti Per andare a guadagnare Ok Gradualmente Quindi in questo caso È un guadagno assicurato Però ovviamente Devono esserci dei fondi E qui guadagni futuri Ok Quindi qua in questo caso È tutto suddiviso Poi in alto a destra Vediamo I miei fondi 105 euro In questo caso Quello che ho ricevuto Andandomi a registrare Su Trading 212 E qui possiamo andare a depositare i fondi Poi andiamo qui La seconda schermata C'è il portafoglio Ok Qui possiamo andare Alla ricerca di robe Poi in questo caso Quello che vi consiglio È di andare direttamente A calendario Questo perché? Perché ci sono degli ottimi Diciamo Delle ottime news Per capire un po' L'andamento del mercato Ok Basta cliccare Ad esempio qui Il 30 gennaio 2023 C'è un evento economico Fiducia dei consumatori Ovviamente Paese Finlandia E in questo caso Precedente Meno 18,5 E c'è anche la previsione Quindi ora stiamo a vedere Perché in questo caso È basso impatto Mentre C'è anche un altro evento economico Sec Ok Della Svezia In questo caso È ad alto impatto Quindi voi Andando a studiare E vedere queste robe In questo caso Possiamo ovviamente Trarne beneficio E guadagni In futuro Ovviamente Anticipando le azioni Mentre Se clicchiamo qui Sulla seconda Dove c'è scritto portafoglio Qui ovviamente Ci sono I soldi Investiti In questo caso I bonus Che potete andare A ricevere Ok Quindi i soldi Che avete ricevuto Con i bonus Mentre C'è una cosa Che mi piace veramente Un sacco Crea un areogramma In questo caso Noi possiamo andare A creare un areogramma Sarebbero Praticamente Un insieme Di azioni Ed ETAF Scelti da voi Ok Vi faccio vedere Un esempio Voglio andare Ad acquistare Facciamo caso Tesla Ok Quindi clicchiamo Tesla Lo lasciamo qui Poi Ci piace un'altra Azienda Apple Cerchiamo La inseriamo Ok L'azione Eccolo qua Poi Vogliamo Mettere Meta Facciamo così Mettiamo meta In questo caso Eccolo qua La prima Mettiamo Anche L'ETF Ok Vanguard SP500 Ovviamente Dopo che abbiamo fatto tutto C'è questa schermata Noi Ok Possiamo andare A creare Un investimento Unico Ad esempio Voglio mettere Questo qui Al Facciamo caso Al 50% Ok Dobbiamo regolarci Però con le misure Ad esempio Ora siamo Al 125% Di investimento Quindi dobbiamo Scendere Il 25 Di 25 Tutti Diciamo la cifra Ad esempio Vi faccio vedere Qui nello specifico Mettiamo Meta 10% Ok Siamo superiore Al 10 Di 10% Al 110% Mettiamo Ad esempio Apple A 15% Ok E ora siamo Praticamente Abbiamo creato Questo investimento Ovviamente Potete farlo Come volete Voi Potete scegliere Poi più aziende Potete fare Molta Molta Più Roba E in questo caso Ovviamente Si crea Un investimento Per il futuro Devastante Ok Quindi Il metodo Che mi piace Veramente Un sacco E che lo consiglio Vivamente Per coloro Che Seguono Diverse aziende E che comunque Vogliono creare Il proprio Aerogramma Basta Registrarsi Sul trading 2.1.2 Ovviamente Vi ho fatto vedere La brevissima guida Prima Casomai C'è il link Telegram Sotto Nella descrizione E in questo caso Basterà Comunque Fare Quei semplici Passaggi E ovviamente Vi risulterà Tutto nella schermata Home Principale Ripeto È facile Ed intuibile Mi piace Veramente Un sacco Questa piattaforma Infatti La consiglio Poi Ovviamente Se volete Andare In Diciamo Volete Vedere Il vostro Link Referral Per andare A Invitare Ulteriori amici E magari A guadagnare Quei 100 dollari Bonus Basta Andare In alto A destra Qui Ok Sulla freccia Sotto Ovviamente In questo caso Dal pc È così Ma Dallo smartphone È molto più semplice Ci sono altre funzioni Come gestisci fondi Storia Via dicendo Imparare documenti Blah 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 Basta cliccare su Ottieni azioni gratis E in questo caso Vi uscirà questa schermata Ottieni titoli Azionari Gratis Ciascuna Del valore massimo Di 100 euro Invitando i tuoi amici Su trading 212 Basta cliccare Su copia Il link Di invito E fai seguire Ovviamente I stessi Identici passaggi Che vi ho Mostrato Prima Ok Detto questo Ragazzi Se questo Tutorial Vi è stato Utile O magari Lo volete Ancora Più Dettagliato Spolliciate Più che potete Iscrivetevi Soprattutto Al canale Attivate La campanella Delle notifiche E noi ragazzi Ci vediamo domani Con un prossimo Vídeo Dettagliato